E ora dove siamo? Dove andiamo dal sonno ora? Ora però siccome il video sta durando più del previsto Al momento mi fermo qui Ragazzi abbiamo avuto giusto un assaggio di wick e lazaretto Ma se questi giochi vi piacciono Vi porterò anche il seguito magari in un prossimo video Anche se comunque di giochi come questi ce ne stanno davvero a buttare su steam E siccome me ne regalate davvero un sacco ultimamente Mi sento proprio in dovere di portarli Almeno per dargli un assaggino Anche perché a mio avviso è l'unico modo per scoprire Se effettivamente là fuori esiste qualcosa di decente Qualcosa di diverso Per scoprire, per scovare questi giochi Occorre provare un bel po' di sterco Ragazzi per ora questo è tutto Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video Grazie a tutti